Quando vuoi. Gli obiettivi sono nel futuro, però bisogna anche ricordare il passato di questo luogo glorioso di cui adesso Giulia Gabana in qualche modo è la custode. Sì, questa è stata un'iniziativa particolarmente bella, a cui noi ci tenevamo tantissimo perché alla fine la storia sono le fondamenta del futuro ed è emozionante. Io l'ho vista quando la stavamo organizzando e montando ed è stato emozionante, ho letto ogni singola parola, ho letto tutta la storia perché è vero che io sono nel mondo della pallavolo da tanto, però sapevo la storia della mia società e ho imparato anche tutta la storia di Modena Volley. È stata anche per me una lezione. Dal 1953 al 2023 e magari anche dalla prima Coppa CEV di Velasco alla prima di Giulia Gabana. Sì, esatto. È stata una bella storia. Poi ho rivisto un sacco di persone che non vedevo da tanto, un po' dall'olio. Ricordavamo quando io ero veramente piccola e mio papà ancora faceva da sponsor, non era ancora presidente della Gabeca. E insomma, rivedere tutte le persone che hanno fatto parte di Modena e della storia della pallavolo è stato molto emozionante. Avete portato in giro per questi corridoi anche Guantorena, Davi Schiva, Sia Poshkov, Le Stelle di oggi. Che effetto vorrebbe che facesse loro tutta questa storia sulle paredi? È un effetto importante perché, le lo dicevo anche ieri, loro devono conoscere, secondo me, indipendentemente da ogni club dove vanno a giocare, la storia del proprio club. Motivo in più da Modena che magari ha una storia più grande e più lunga rispetto alle altre. Ed è importante vedere come non solo i vari presidenti che si sono seguiti, ma anche i giocatori. Mi dicevano che c'erano alcuni, mi raccontavano che spendevano dei loro soldi per venire a giocare e per spostarsi da posti lontani senza comodità, senza comfort. Insomma, è giusto che anche loro che invece di queste cose ne hanno capiscano quanto è la volontà dello sport e la volontà della propria passione, cosa gli ha mosso il 90% delle persone che vedono attaccate ai muri di Palapanini.